E sì perché a Samsung non solo fanno i telefoni, non solo mettono i telefoni a bagno, non solo mettono le lavatrici, ma mettono anche un giochino per praticamente andare a vincere dei gadget che regalano appunto questi di Samsung. E' praticamente il succo del discorso che dovete buttare queste palline, come sta tentando di fare questa ragazza, all'interno del fatidico cestello della lavatrice. Ok, quindi una volta buttata la pallina, ecco, gli consegna il premio e va via bella contenta e niente. Sì ma io devo andare in altri stand ragazzi, non posso stare qua due ore, anzi due ore, tutta la mattina che sono qua da Samsung. Andiamo via va, ciao ciao!